Sì Ma stanno guardando a noi? Eh? No, dovete guardare i film Sta cominciando Il film Sta cominciando i film Guardate i film Guardando a noi Questi ci guardano Eh? Dici un fatto importante Spegnete i cellulari Eh? E' bello Spegnete i cellulari E' importante se lo fai Che vuoi? Ma pure io Spegnete i cellulari Ma stiamo dicendo E come lo riprende il film? E' illegale Scemo Spegnete i cellulari Spegnete i cellulari Spegnete i cellulari Sta cominciando il film Il film Il film Guardate a noi i film Guarda sta cominciando Eh? Ma che facciamo? Dove? Lo spettacolo Dobbiamo fare la commedia Dove? Qua Qua nessuno è fisso Ah? Il titolo Commedia divertente Molto Dove? Qua In due atti Con Massimo Peluso E con Rodaldone Ettore Massi Qua nessuno è fisso Dove lo facciamo? Qua Nessuno è fisso Shhh I film, i film I film Guardate i film Volevo registrarla Che legati Spegnete i cellulari Non Il link Qua Pero Seule Per Grazie.